Clamoroso, clamoroso, clamoroso. Juventus-Milan non si gioca né a porte aperte né a porte chiuse. Decisione non della Lega, da quello che ho saputo, ma decisione che arriva direttamente dal Viminale. Le cause non sono sconosciute, non ho idea. Forse perché, per paura di gente che si muova pur non venendo dalla Lombardia, ma io ero qui per preparare il video dicendo il Milan con chi gioca, Paquetà, il posto di Castiglieco eccetera eccetera eccetera, ma la partita è rinviata a data da destinarsi. I motivi non si conoscono, arrivano direttamente, ripeto, dal Viminale. Quindi questa è la situazione, una situazione dunque che complica ancora tutto l'andamento del campionato, della stagione calcistica, ma signori siamo alle prese con questo virus che quindi diventa la cosa prioritaria. Quindi sinceramente pensare che Milan-Genoa si giochi a porte aperte, mi sembra, anche se si giochi lunedì e la stessa cosa Juventus-Inter, mi sembra una cosa molto improbabile. Ora è da capire se le partite che eventualmente si potrebbero giocare a porte aperte, magari per una regolarità vengono tutte chiuse le porte anche perché ci sono casi che incominciano a esserci anche in altre regioni. Quindi Juventus-Milan è rinviata da strada di estinarsi. Non so cosa decideranno per Napoli-Inter, lo devono decidere per non far partire l'Inter per nulla in questo caso. Quando si giocherà visto il calendario? Ma voglio regolarizzare una situazione anomala, capisco anche le difficoltà dei governanti a trovare, perché ripeto, è una situazione nella quale il mondo, non l'Italia, non la Lombardia, non l'Europa, non si trova. Quindi cercare di capire e cercare di usare la logica in un avvenimento totalmente illogico, totalmente nuovo, non è facile. Cerchiamo di portarla nell'alveo del ragionamento, nell'alveo della logica, ma non si può portare nell'alveo della logica una cosa del genere. Quindi noi, il mio canale YouTube parla di calcio e quindi parla di Milan, quindi ci sforziamo di parlare di queste cose, ma capisco anche i governanti. Quindi Milan-Juventus, Juventus-Milan non si gioca, Inter-Napoli, Napoli-Inter non lo so, il prossimo weekend di fronte a questa notizia, perché poi bisogna capire il perché, il perché, perché il Milan in questo momento, e sono le 8, sono le 20 e 40, sta mangiando a Torino, Sarri ha fatto la conferenza stampa, quindi fino a due ore fa tutto era regolare. Che cosa sia successo? Perché il Viminale abbia bloccato questa partita? Non ho idea. Certamente è un qualcosa di grave, qualcosa di importante, perché altrimenti fino a due ore fa tutto era regolare. Il Milan, ripeto, è a mangiare in un albergo di Torino e adesso deve tornare indietro. Quindi questa è la notizia. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale to quello che cazzo